Il primo giorno che era qui fuori praticamente ci ha saltato subito così addosso e poi piano piano un po' di confidenza e piano piano insomma ecco... Vi ha scelto lui? Ha scelto lui, esatto, probabilmente sì. Lui è Dado, un meticcio segugio di circa due anni che dopo l'abbandono era stato affidato al canile comunale di Arezzo. Dado era stato trovato a dicembre dell'anno scorso e non aveva microchip, probabilmente anzi sicuramente era un cane da caccia pieno di pulci e zecche, magro, sicuramente lo avevano lasciato perché non era bravo, perché infatti è un po' pauroso, ha paura dei rumori forti. Ed è proprio dai box del canile che è iniziata la sua seconda vita, quella al fianco della sua nuova famiglia. Adottare un cane vuol dire come adottare una persona, anzi forse di più perché una persona per un male ci si parla, con lui ci risponde, con lui bisogna interpretare un po' quello che sono le sue esigenze. I primi tempi era un po' difficile anche per lui, però adesso insomma anche lui ha capito e quando lo lasciamo lì che andiamo al lavoro è un po' dura per lasciarlo, insomma anche per noi proprio. Adottare resta un gesto di amore e civiltà che indubbiamente cambia la vita dell'amico a quattro zampe e di chi lo adotta, ma è soprattutto una scelta di responsabilità. L'adozione deve essere un'adozione consapevole, quindi il cane non è che si prende a Natale e poi a Pasqua si abbandona, il cane se si prende è per tutta la vita o fino alla vita del cane.